Estra è una grande multi utility di origine pubblica, regionale che è diventata nazionale e che oggi ha deciso in maniera strutturale di creare un capitolo di bilancio, un pezzo del piano strategico dedicato alle start-up, ai giovani, alle idee innovative, a chi può contribuire a migliorare il nostro business, a renderlo innovativo, moderno, chi può contribuire a innovare il rapporto tra i nostri clienti e l'azienda, ne abbiamo centinaia di migliaia e possiamo inventarci insieme a voi delle opportunità nuove che migliorano i servizi erogati, ma che vadano anche a sviluppare tutte le altre attività collaterali che abbiamo. Per questo abbiamo realizzato un progetto che prevede anche una sorta di concorso che premierà le migliori idee, le migliori proposte fino a un massimo di 3. Ci sarà un contributo economico, ma ci sarà soprattutto la possibilità che Esti diventi una sorta di business angel, di mentor, di incubatore, capace quindi di assecondare i piani di queste imprese giovani e innovative e capace anche di sostenere nel futuro, perché no, di entrarsi in società. Quindi partecipate numerosi e contribuite ad innovare una delle più belle realtà pubbliche che eroga servizi pubblici. Grazie. Grazie.